Allora siamo in compagnia di Lucia Soccol che sta per iniziare il suo primo video immobiliare come ti senti Lucy? Non so se sarà il primo o se sarà l'ultimo questa sarà una grande sfida! Bene vedremo, vai! Lenti 3 e torni indietro, fantastico! Io non ti ho detto che la mia precedente vita era... Eri una regista? No, sì, alla Warner Bros! Bene, adesso vediamo! Pensavo fosse molto più difficile, invece se ci arrivo io può arrivarci chiunque! Bene, adesso vediamo il risultato, ok? Bene! Bene, adesso vediamo il risultato! 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 Ciao! Ciao! Grazie a tutti.